Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica. È tutto chiaro? Sono Laura e anche oggi analizzeremo due verbi che possono creare confusione in italiano, rendersi conto e rendere conto. Fate attenzione perché sono due verbi apparentemente simili ma hanno due significati completamente diversi. Cominciamo con rendersi conto. Rendersi conto significa capire pienamente qualcosa, realizzare qualcosa, prendere coscienza di qualcosa e spesso viene usato come sinonimo di accorgersi. Bene, vediamo quest'esempio. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Significa hai capito che cosa hai fatto? Dopo rendersi conto segue la preposizione di o la congiunzione che. Rendere conto significa giustificare, motivare una scelta o un'azione che abbiamo fatto. Ad esempio se Maria decide di andare a vivere da sola deve rendere conto ai suoi genitori. Significa deve motivare la sua scelta ai suoi genitori, deve dire perché lo ha fatto. Al passato prossimo rendere conto a differenza del verbo rendersi conto usa l'ausiliare avere. Vediamo l'esempio. Non ho mai reso conto a nessuno delle mie scelte. Come potete notare si dice rendere conto di qualcosa a qualcuno. È tutto chiaro? Scrivetelo qui nei commenti.